CGL, CISL e UIL Funzione Pubblica denunciano una situazione di degrado negli uffici dell'Agenzia delle Entrate della Spezia. Infiltrazioni d'acqua, pannelli che si staccano dai soffitti, pavimenti instabili, uffici transennati perché inagibili. Tutto questo incide sulla sicurezza dei lavoratori, più di 160, e delle migliaia di cittadini utenti. I sindacati tengono però a rimarcare che non ci sono responsabilità da parte della direzione spezzina dell'ente, ma chiedono che intervenga la direzione regionale, l'unica attitolata ad eliminare gli elementi di potenziale pericolo. Una sede che ha una serie di criticità che sono preoccupanti e questo di fronte all'ossoluta superficialità e non curanza da parte della direzione regionale. Dentro ci sono degli uffici chiusi, non è possibile l'accesso né ai dipendenti né al pubblico transennati dal vigile del fuoco perché c'è un problema di crollo dei soffitti, c'è un problema di infiltrazione dell'acqua, i pavimenti che si muovono sempre di essere sopra una piattaforma galeggiata, quindi i problemi ci sono e sono seri. Noi chiediamo innanzitutto che ci sia un intervento da parte della direzione regionale, un intervento atto a ripristinare le condizioni di sicurezza degli ambienti sia per i lavoratori che per gli utenti tutti. E quindi bisogna che la direzione regionale, in accordo con la proprietà che pare che sia di proprietà di un privato, facciano le dovute certificazioni, i dovuti rilievi da parte di tecnici per dare la garanzia della sicurezza dei posti di lavoro. Dal piano del calpestio fino al piano dell'ingresso vi sono continue infiltrazioni dal tetto e dalle fondamenta. Questo potrebbe far trasformare l'agenzia e tutti gli uffici che sono qua dentro come un grosso bagno turco. Sono degli uffici che sono tutti i giorni frequentati da utenti e dai lavoratori che sono circa 160. Quindi è un problema grosso, è un problema serio. Quando dal governo centrale partono delle indicazioni sul togliere dai territori i servizi per aggrupparli sulle province, sulle regioni, chiaramente quei territori dove i servizi tipo Sarzana erano presenti, presentano una difficoltà importante per i cittadini che si vedono depauperato il territorio da tutta una serie di servizi che l'agenzia offriva e che oggi viene riportato su Spezia con carichi di spesa pesanti sui cittadini stessi. Già da ottobre la UIL insieme alla CGL e insieme alla CISLE fece dei documenti sull'importanza di mantenere sui territori questo tipo di servizi che l'agenzia delle entrate offre da sempre. Tra l'altro ha le categorie produttive non solo ai lavoratori o ai pensionati, quindi tutta una serie di servizi che si offre alla CNA, agli artigiani, ai liberi professionisti. L'altro problema è proprio la chiusura della sede di Sarzana che, secondo i sindacati, provocherà disagi agli utenti di quella zona ed un sovraccarico di lavoro per la sede della Spezia.